Una giornata esperienziale e abbiamo pensato di organizzarla in questo modo, fare dei piccoli gruppi coordinati da ciascuno di noi e stimolare i colleghi proprio ad immaginare un progetto di collaborazione. Avremo modo di confrontarci alla pari e di mettere a frutto la nostra creatività. Grazie a tutti. Grazie a tutti.